Remo Remo E cosa devo fare? Devi procurarti una cacca Adesso vi spiegherò come creare la cacca Come potete vedere la cacca non è tanto liquida Quindi per farla diventare liquida La andrò a mettere nel microonde La lasciate circa 30 secondi Adesso la metto nel microonde E la riscardo Ragazzi come vedete La cacca è diventata più liquida Quindi adesso La andrò a spalmare sul pallino Ragazzi la cacca è pronta Ragazzi è passata Quasi mezz'ora Primo Primo